Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione, buongiorno anche a chi ci segue in streaming sul sito www.nettunotv.tv Buon inizio di giornata in questo mercoledì 28 novembre 2018, rassegna stampa che come sempre apriamo leggendo le prime pagine dei quotidiani bolognesi e poi andremo anche all'interno di tutti quelli che sono i quotidiani nazionali. Partiamo dal resto del Carlino, in prima pagina titola Tragedia della disperazione, omicidio-suicidio, un pensionato ammazza la moglie malata e si getta dal terrazzo, è successo ieri mattina a Bologna nella zona dello stadio. E poi nel taglio laterale, sotto protezione Caruso, il giudice anti-indrangheta al processo Emilia e poi a Feltrinelli nel pomeriggio di ieri, Minniti contestato dai collettivi, la polizia blocca i manifestanti. Nel taglio basso, centro, sosta notturna a pagamento per i non residenti, l'idea allo studio di Palazzo d'Accursio, il piano della città metropolitana. E poi ancora aeroporto, contro il rumore, doppi vetri in scuole e abitazioni, se ne parla all'interno, a pagina 8 e a pagina 9. Prima pagina del Corriere di Bologna invece che titola Traffico, la rivoluzione costa 2 miliardi, in merola la prima copia del piano a Torinelli, la zona verde si allargerà fino alla tangenziale. Il primo provvedimento, il biglietto unico, valido per bus e treni, il limite dei 50 nelle vie principali, 30 nelle altre strade. Nel taglio basso, uccide la moglie malata e si lancia nel vuoto, aveva 93 anni e diceva non mi riconosce più, è successo in via Montefiorino. E poi ancora, Brizzi affidato ai lavori sociali, al Sant'Orsola non pagava gli alimenti. Lo scrittore Enrico Brizzi ha ottenuto la sospensione del processo per i mancati alimenti versati alla moglie, ma dovrà fare appunto i lavori socialmente utili. Nel box sempre di prima pagina, uccide la moglie, abbiamo letto in primo piano, e si lancia nel vuoto. E poi ancora, Minniti contestato da Obo e Matteo Ricchetti appoggia Martina. Nel taglio basso invece, le lettere di Natale dei piccoli siriani, gara di solidarietà per i bambini rifugiati in Turchia. Ecco cosa chiedono ai bolognesi, questa è la prima pagina del Corriere di Bologna. Prima pagina anche di Repubblica Bologna, dai bus alle auto, il futuro elettrico del piano traffico. Arriveranno 4 tramvie, 7 nuove linee e nella ZTL pass ai residenti non inquinanti. La fotonotizia di prima pagina dedicata a quanto accaduto ieri, il Fermi va a teatro per ricordare Lazzarini. Caro preside, sei ancora qui con noi, ieri giornata all'Europa Auditorium per gli studenti del liceo Fermi per ricordare il preside scomparso. Sempre in prima pagina, Minniti e Zuppi a dibattito tra sicurezza e integrazione, contestazione del collettivo Obo all'ex ministro nel pomeriggio di ieri. Nel taglio basso invece, stasera a teatri di vita, Chiara Caselli recita ENC, insulti al pubblico per reagire. Questa è la prima pagina di Repubblica Bologna. Ne parlano già le prime pagine e poi andiamo a vedere, adesso andiamo all'interno del resto del Carlino di Bologna. In primo piano, pagina 2 e pagina 3 si parla della tragedia accaduta ieri mattina. Delitto e suicidio. Paolo Palmonari, 93 anni, viveva con la moglie. Alle 6.30 di ieri mattina l'anziano ha ucciso la moglie e si è tolto la vita, gettandosi dal quarto piano dell'appartamento. La donna soffriva di Alzheimer e il marito negli ultimi tempi aveva confidato agli amici di sentirsi triste e affaticato per la difficile situazione. Il titolo, riportato sul resto del Carlino, ammazza la moglie malata, si toglie la vita, in via Montefiorino, un pensionato di 93 anni, si getta dal quarto piano dopo l'omicidio. A parlare sono amici e vicini, una coppia molto unita, ma lui da tempo era triste e soffriva per la malattia di lei, dicono appunto gli amici e i vicini di appartamento. Il testimone, il titolare del Bar 8, ha stato lui a lanciare l'allarme e ha detto siamo tutti sotto shock. Il resto del Carlino intervista poi un'esperta che dice in queste situazioni vanno aiutati i familiari e i pazienti. La persona che parla è Maria Lia Lunardelli, direttore della geriatria e responsabile del centro disturbi cognitivi delle demenze dell'ospedale Sant'Orsola. Pagina 5, cittadino cronista, i cittadini evidenziano le cose che non funzionano in città, sul marciapiede c'è di tutto in via Spada, poi alla stazione un parcheggio pieno di rottami, in via Michelino dopo la fiera i sacchi abbandonati nei parcheggi e nelle aree pubbliche e poi ancora in via Calzolari, come non disfarsi di un materasso posto accanto agli bidoni dell'immondizia e poi ancora in via del Pratello, i porti, ci sono una discarica, queste le zone critiche riportate nel quotidiano di oggi sul resto del Carlino. Si parla di infrastrutture, la mobilità del futuro, più bici e treni, auto addio, ecco il piano. Da qui al 2030 il Comune prepara una città con reti di trasporto integrate. Tra le proposte per i non residenti, sosta notturna pagamento, via Michelino diventa un nodo strategico e poi ancora in arrivo i progetti per il nuovo tram e la ZTL ambientale fuori chi inquina. Questi sono parte dei progetti. Tutto questo rientra nel piano della mobilità, il PUMS, e poi riguarda anche il PGTU, il piano del traffico, che riguarda solo Bologna. Insieme andranno avanti con un iter che verrà approvato e il sindaco, ieri, Virginio Merola, ha presentato la proposta insieme all'assessore alla mobilità Irene Priolo e allora andiamo a sentire proprio Virginio Merola che spiega come funzionerà questo PUMS e qual è l'idea legata appunto a questo piano per la mobilità a Bologna. Questo studio molto approfondito, sul quale avremo tempo per discutere nei prossimi mesi, indica degli obiettivi chiari. Il primo obiettivo è di avere più aria pulita, il bacino padano è uno dei più inquinati d'Europa, bisogna fare in modo che circolino meno auto, ci sia più trasporto pubblico, più mobilità alternativa con le biciclette, il car sharing e il bike sharing. Per quanto riguarda la sicurezza dobbiamo convincerci che c'è un problema di sicurezza, di morti e feriti per strada quindi è molto importante anche che le misure pensino a questo, a tutelare la salute e l'incolumità dei nostri cittadini e poi c'è il tema importantissimo dei tempi di vita. In media i nostri studi ci dicono che passiamo quattro giorni e mezzo solo per stare in coda con la nostra auto. Questo non va bene, bisogna fare in modo che la mobilità sia una mobilità accessibile e veloce e ci sono tutte le misure. È un piano per cui ogni misura ha quantificato le risorse necessarie, quindi è un piano credibile, lo abbiamo studiato. Questo piano entro il 2030 costerà 2 miliardi verificabili, credo che sia un obiettivo raggiungibile. Partiamo dal tram, dalla prima linea del tram, siamo la prima città in Italia ad adottare un piano della mobilità, questa è una condizione per accedere ai finanziamenti. Per quanto riguarda il tram, si tratta di un miliardo e quattro che è stato stanziato, previsto dal precedente governo. Sono certo che anche il governo attuale darà seguito a questo impegno e chiediamo per la prima tratta del tram 350 milioni. Altrettanto importante è il servizio ferroviario metropolitano, si tratta di costruire i collegamenti che attraversino la stazione per permetterci di arrivare a una cadenza di 15 minuti per trasformare i nostri treni nella nostra metropolitana di superficie. Rimaniamo a parlare di trasporti, se ne parla anche a pagina 8 e a pagina 9 sul resto del Carlino di Bologna, aeroporto, l'idea delle nuove rotte più passaggi sopra Calderara. Questa è l'idea di Daniele Ara del Navile che dice che così si ridurrebbe l'impatto acustico sulla città. Risponde l'Irene Priolo, sindaco di Calderara, che dice capisco bene il disagio di un'area residenziale, lì ci sono dei capannoni. Per quanto riguarda il people mover, la navetta fa troppo rumore e gli pneumatici sono sotto accusa. Sempre rimanendo a parlare di aeroporto e di temi legati appunto ai trasporti, i rimedi contro il rumore dei voli, pronti doppi vetri e isolanti acustici. Le misure allo studio saranno utilizzate per condomini e scuole. A parlare nell'assessore Giuliano Barigazzi che dice il problema c'è, il monitoraggio ASL deve essere permanente. Al processo a pagina 10, protesta di Notav sui binari, la sentenza ha condannati 44 attivisti. La stazione andò in tilt, pene da un anno a 15 mila euro di multa. Alla sbarra anche antagonisti di lungo corso come Tiziano Loretti e Stefania Carolei e poi per quanto riguarda il risarcimento, a RFI spettano 25 mila euro. I ritardi per il tele in transito furono di circa 20 minuti. La fotografia riporta appunto uno dei momenti di protesta dei Notav. Ieri contestato Minniti che ha presentato il libro alla Feltrinelli, contestato da Obo, Zuppi dice nel corso dell'incontro che c'è stato appunto per la presentazione del libro, la sicurezza non è un tweet, gli studenti respinti dalla polizia davanti a Porta Ravegnana. L'episodio accaduto alla presentazione appunto del libro dell'ex ministro, l'arcivesco Zuppi ha detto dobbiamo ringraziare Minniti perché si può essere d'accordo o meno con lui, ma ha voluto restituire con la scrittura la complessità dei problemi. Non mi abituo, Minniti ha parlato della contestazione, dice non si fa mai l'abitudine in questi casi, tuttavia quando uno opera deve sapere che può essere criticato. Ci sono coloro che sono d'accordo e coloro che non sono d'accordo. SOS Sicurezza pagina 13, pugno duro contro lo spaccio, più controlli fuori dalle scuole, protocollo firmato dal sindaco Merola e dal prefetto Impresa con anche la presenza del questore Bernabèi, la municipale con i cani e appunto pattuglierà parchi e giardini vicino agli istituti scolastici. A parlare, si parla anche di Galleria Cavour, ecco la boutique, porte aperte in Galleria Cavour, la boutique è quella di Gucci, da oggi a sabato cocktail per tutti con vista sulle ultime collezioni. Due livelli per il negozio e l'ultimo in altro che verrà destinato al magazzino. Al teatro delle celebrazioni invece giù le mani dai vecchi, confronto tra esperti promosso da Anaste e poi ancora la borsa di studio Raciti alla figlia di L'Aventura, il circolo principe Eugenio di Savoia, Suasson riporta appunto questa notizia. Andiamo a parlare ancora di Bologna in primo piano, è il titolo di pagina 15, si parla di confabitare le tasse sulle case, sono aumentate del 110%, così non c'è ripresa. Sono le parole del presidente Zanni, confabitare farà una vera e propria convention. Questa settimana, venerdì, verrà trasmessa su Nettuno TV l'appuntamento nazionale con gli esperti del settore è in programma appunto venerdì, questo è l'appuntamento da ricordare per quello che riguarda la convention di confabitare. USB attacca GD, anti sindacali, terreno di scontro questa volta la mensa Cheer Food, proteste anche per l'uso della saletta, la cronaca riportata a pagina 17 e poi ancora mancati alimenti alla ex, Brizi in prova, servizi socialmente utili per l'autore del libro. Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Andiamo anche in provincia, zona di San Lazzaro, la sala slot attacca il comune, vogliamo 900 mila euro, la titolare del girasole dice solo i danni per la chiusura. A rispondere anche il sindaco di San Lazzaro, Isabella Conti, che dice, aperti a dispetto dell'ordinanza, sono abusivi, metteremo i sigilli. Questa è la legge, io tiro dritto, dice appunto il sindaco di San Lazzaro. La cronaca a Casalecchio, rubano l'incasso del parcheggio e fuggono, nascondendosi tra le auto, blitz dei ladri nell'area di sosta di Unipol Arena. E poi ancora al Casalecchio, il liceo Leonardo da Vinci, nasce il primo liceo della matematica, sarà appunto il liceo di Casalecchio, il Leonardo da Vinci. San Lazzaro e Valle dell'Idice, strade al buio, i ladri entrano in azione, da Dino a Castenaso i residenti sono preoccupati per la sicurezza. Qui però non si sta male, sono le parole dei residenti che hanno incontrato i cronisti del resto del Carlino. Anziani assicurati contro i furti a Granarolo, riportata la notizia pagina 22, e pagina 23 si parla invece di San Giovanni in Persiceto. Laboratori abusivi e lavoro in nero, il NAS chiude, quattro attività. Blitz dell'arma, sette cittadini cinesi sono stati denunciati. Andiamo a vedere anche la zona della montagna, il calciatore Lupi, il saluto fascista dopo il gol, confermata l'archiviazione, il tribunale ha respinto il reclamo del comune, è infondato, l'ente non è parte offesa. Si fa riferimento a quanto accaduto un anno fa, quando un giocatore del Futa 65 esultò con il braccio teso, proprio in quel di Marzabotto, è stato tutto archiviato. Lizzani in Belvedere, Funivia, Corno, Doganaccia, a luglio l'appalto dei lavori, si tocca anche questo tema, nella parte della provincia, del resto del Carlino. Ieri il sindaco ha parlato di questa nuova iniziativa, di quello che sarà la mobilità a Bologna col passare degli anni, ma ha parlato anche del tema del passante. Allora andiamo a sentire le parole del sindaco di Bologna, Virginio Merola. Attendiamo di essere convocati, come avviene in un paese normale, dove i sindaci e i presidenti delle regioni sono eletti dai cittadini, così come i rappresentanti del governo. Io mi auguro solo che questa melina finisca e ci dicano cosa vogliono fare da grandi, possibilmente prima delle elezioni europee, perché non tutto può essere piegato a interessi di parte. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, anzi io mi sono assunto le responsabilità per questo, anche discusse, ma ho portato a casa, insieme alla regione, 800 milioni di euro per l'allargamento della tangenziale, tutte le opere complementate e 130 ettari di verno. Adesso tocca a loro dire qualcosa da grandi, soprattutto rispondere alle associazioni economiche della nostra città e ai cittadini in coda nella tangenziale per sapere quali provvedimenti intendono adottare. Quindi il passante sud semplicemente non esiste, è stato studiato da 20 anni, è la soluzione meno credibile ed è la più impattante per l'ecologia della nostra città, perché sventra la collina. Avere un governo fatto da un contratto nel quale, se si va fuori dal contratto, non si sa che pesci prendere, è un problema loro, di cui dovranno rispondere al paese. Andiamo sulle pagine del Corriere di Bologna, un piano mobilità da 2 miliardi per ridurre l'inquinamento del 40%. La metropoli approva il Pums, Mero la dice, è il primo in Italia di questo genere il governo ci finanzi, le parole del sindaco che abbiamo appena sentito. Si parla di ZTL ambientale, area verde, il centro sostenibile sarà in 12 anni, dentro porta solo mezzi elettrici, fuori banditi, quelli inquinanti. E poi ancora si parla di People Mover, in box di pagina 2 sul Corriere di Bologna, cambio gomme per il People Mover, troppo rumore. I commercianti affilano le armi, mentre esulta la Galassia Green, sono le prime reazioni rispetto al Pums, che è stato approvato e con il conseguente avvio dell'Iter. Confesercenti dice, dovevano consultarci, Legambiente risponde, dice, niente deroghe. La città lenta piace, quasi a tutti, purché ci siano maggiori controlli, si parla della zona tra Mazzini e Murri. Questo è quanto riporta il Corriere di Bologna sulla notizia di ieri. La cronaca, a 93 anni, uccide la moglie malata, si getta dal balcone, chiedo perdono, la donna aveva l'Alzheimer, al barista dice, non mi riconosce più. E poi il processo Emilia, il giudice Caruso sotto protezione, la scorta sarà presente anche a Bologna. Andiamo avanti con le pagine del Corriere di Bologna. Brizzi ha i lavori socialmente utili, lo scrittore paga il debito con la ex, è sospeso il processo per i mancati alimenti, ok, alla messa in prova, alla messa in prova al Sant'Orsola, questo riportato sul Corriere di Bologna. E poi Cortano Tav, 44 condanne per gli antagonisti, fa riferimento agli scontri che sono accaduti in stazione, nel 2012 la manifestazione No Tav, con il blocco binari che avvenne in stazione. Ancora la cronaca Minniti contestato, ma Zuppi lo salva, sul tema dei migranti, l'ex ministro della protesta del collettivo Obo, segreteria PD, Ricchetti si ritira, io con Martina. Il senatore di Modena dice, ho chiamato Martina, gli ho promesso lealtà e sostegno, ma gli ho chiesto radicalità e coraggio. Per quello che accade a Marzabotto lo scorso anno, anche il Corriere di Bologna riporta la notizia dell'archiviazione per il giocatore Luppi, che fece il saluto romano a Marzabotto, e poi a pagina 11, quelle letterine spedite dal confine. We are Ollus, come Babbo Natale, esaudirà i desideri dei piccoli siriani rifugiati in Turchia. Sono storie di solidarietà sotto le due torri, come il titolo riportato sul Corriere di Bologna. La classifica dei libri più letti in città, Harry Potter e i libri più letti dai bambini bolognesi, nella classifica dei volumi prestati dalla Sala Borsa, volano anche le opere di Roald Dahl. E poi ancora, sempre il Corriere di Bologna, l'economia, rifiuti speciali fermi, allarme degli industriali, rischio ambientale. Se ne parla a pagina 15, l'assessore Gazzolo della Regione dice, stiamo lavorando a una soluzione per garantire alle imprese. Il calcio, Super Pippo, ultima puntata, contro Sampdoria ed Empoli, Inzaghi scommette tutto sul modulo più usato, il 3-5-2, che viene riportato bello in grande sulla pagina sportiva del Corriere di Bologna. Fiducia ancora alla coppia Palacio Santander, mentre in mezzo c'è da valutare Blerim Zemaili. Per quanto riguarda il mercato, che scalda i motori, per Pulgar rinnovo cessioni, in entrata la suggestione David Kovnatsky, il giocatore proprio della Samp. E sulla Samp, maledizione, che continua dal 98, da 20 anni il fortino blu cerchiato per il Bologna è un vero e proprio tabù. La Fortitude invece ha avuto il risponso degli esami di Kenny Esbruck, lesione muscolare lieve, la Fortitude tira un sospiro di sollievo, solo qualche giorno di riposo per il giocatore americano di Antimo Martino. Andiamo all'interno adesso delle pagine di Repubblica Bologna. A pagina 2 si parte parlando della contestazione a Minniti, Minniti incontra Zuppi, su quello che riguarda il tema del libro, dice la Chiesa mi ha aiutato, l'integrazione è sicurezza. Il candidato alla segreteria PD e il Vescovo, che dice io non sto con nessuno, dice appunto Minniti, io ho uno scacco se neanche uno di noi raggiungesse il 51% alle primarie, fa riferimento appunto alla situazione politica. Ieri Obo l'ha contestato e Zingaretti andrà a Ravenna con Gualmini e De Pascale. A pagina 3, il modello di consumo va cambiato, non ci salveranno i Black Friday, a parlare il presidente di Unipol e la Biennale della Cooperazione, un'occasione per il futuro del nostro mondo. E poi dice la mia agenda, occupazione giovanile, diffusione del digitale, il web ha lasciato molti indietro, a parlare il personaggio Pierluigi Stefanini. A pagina 5, il Fermi ha ricordato il Preside, la giornata ieri all'Europa Auditorium, Preside ti portiamo con noi, tutti in piedi per Lazzarini, oltre mille, fra insegnanti, studenti e genitori, per l'omaggio al dirigente scomparso. Parole, danze e canzoni, come sarebbe piaciuto a lui, che era costruttore di comunità. Dopo l'ennesimo fallimento, mi insegnò che a volte si vince, tutte le altre si impara, sono alcune delle testimonianze, e poi ancora, la massima che ripeteva sempre era, quando pensi di avere tutte le risposte, la vita ti cambia le domande, la notizia riportata su Repubblica Bologna. I ciclisti di Frassinago ci mettono la faccia, nel poster dei 108 sì, se ne parla pagina 6, affisso alle bacheche di Cip, per convincere negozianti e residenti, sulla pista ciclabile, il traffico siamo noi. E poi ancora dieci anni per cambiare aria, la sfida di Merola alle emissioni, nel piano traffico adottato ieri, figurano quattro tramvie e sette nuove linee, entro il 2020, bus solo elettrici, e in ZTL pass ai residenti non inquinanti. Tragedia della solitudine, la cronaca riportata a pagina 9, sul Repubblica Bologna, uccide la moglie ammalata e si butta dalla finestra, è successo ieri mattina nella zona dello stadio, lui 93 anni, lei 91, soffriva di Alzheimer, ed era in attesa di un posto in una residenza protetta per anziani. La cronaca concentrata, sempre a pagina 9, su Repubblica Bologna, occuparono i binari della stazione condannati, 44 antagonisti, e poi il lavoro nero Blitz dei Nas, quattro laboratori sequestrati e sette denunce. Si parla anche di Brizzi, niente alimenti alla moglie, per Brizzi decisi i lavori socialmente utili, e poi assegnata la protezione al giudice Caruso dopo le condanne all'Andrangheta nel processo Emilia. Pagina 11, lo sport, Pecci, il ragazzo tornato senatore, due vite in rosso blu, ci piaceva giocare a pallone, il segreto è tutto qui, fare un lavoro che è una passione. Queste le parole di Eraldo Pecci, le sue foto di quando giocava, scendeva in campo con la maglia rosso-blu. Se a rinforzarsi basta Don Sa, ma stino fragile, il Enzaghi aspetta il ganese, fuori per guai fisici, sparito da quando Donadoni gli preferì Zemaili, si parla di Bologna, pagina 13, con il rientro teorico di Goffred Don Sa, che però non ha ancora giocato un minuto in questa stagione dopo l'infortunio di Pinzolo, in ritiro a luglio, si ferma Zemaili, allarme al ginocchio per il centrocampista del Bologna. Torniamo al lavoro relazionale di ieri a Nettuno TV, perché c'è stata una iniziativa legata alla Montenegro, la terza edizione del contest Zevero Bartender, tenutosi a Bologna, che riguarda appunto l'azienda Montenegro, un'eccellenza per la città. Ce ne parla Matteo Ferrari, l'amministratore delegato di Montenegro. Al microfono di Mario Giulianti. L'amministratore entusiasmante che è da Stanislao Cobianchi nel 1885 a oggi 133 anni di storia, di grande successo, grande crescita del prodotto, in particolar modo, devo dire, negli ultimi anni a livello internazionale, un'icona italiana che riusciamo a esportare e a far apprezzare anche agli altri paesi. A Bologna Montenegro lo slogan è un sapore vero, quanto conta il lavoro, ma anche la passione? Entrambi contano tantissimo, ovviamente non si ottiene nulla senza lavorare sodo, noi abbiamo un team all'interno del nostro stabilimento che fa un grandissimo lavoro di qualità per la produzione dell'amaro Montenegro, la passione porta sempre a fare quel qualcosina in più che il solo impegno spesso non basta. La bolognesità di Amaro Montenegro è importante, è un elemento che noi sfruttiamo molto anche a livello di marketing, al di là della comunicazione sull'etichetta comunque che parla chiaramente di Bologna, ma nelle nostre masterclass, nelle attività di brand education, come si dice, spesso parliamo della città, dell'origine e della qualità che comunque Bologna è in grado di sviluppare. Quali sono i paesi che consumano più Montenegro? Oltre all'Italia, che è il paese di origine, il primo paese quest'anno, alla fine di quest'anno, saranno gli Stati Uniti, gli altri sono Germania, Svizzera e Canada, che è un paese che hanno una forte immigrazione italiana e quindi storicamente comunque hanno già dei consumi interessanti. Gli Stati Uniti invece sono partiti da pochi anni e nel giro di poco tempo, anche grazie alle loro dimensioni, stanno diventando il primo paese. UK, Australia sta dando grandi soddisfazioni e poi abbiamo molti altri paesi, siamo distribuiti in più di 70 paesi al mondo, un po' in modo frammentato, ma tutti i paesi stanno comunque crescendo tendenzialmente a doppia, addirittura a tripla cifra. Marco Ferrari, ovviamente non Matteo, andiamo adesso sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, il resto del Carlino titola Primari di Bontà, l'ambulatorio solidale, un gruppo di medici in pensione, offre visite ed esami gratuiti a chi non può pagarsi le cure, il caso approfondito a pagina 2 e a pagina 3 sul resto del Carlino nazionale. Per quello che riguarda Bologna, uccide la moglie malata di 91 anni e si suicida buttandosi dal balcone, tragedia ieri mattina in via Montefiorino. Le iene non mollano di maio, dimostri che non lavorò in nero per la ditta del padre, il ministro dice produrrò le carte, e poi ancora sulla politica nazionale, Salvini e il decreto sicurezza che incassa la fiducia, linea dura, supermessi e accattoni molesti, sarà una rivoluzione, dice Matteo Salvini. Per il nuovo esame di maturità, invece, appello degli studenti, entri fra le materie e l'ora di costituzione e per quello che riguarda, appunto, gli studenti di scuola superiore. Nel taglio basso, Vandanara dice i selfie sono sexy per lavoro, la moglie di Mauro Riccardi e la Tour Eiffel venduti per 169 mila euro, 24 scalini del monumento più famoso di Parigi. Il Corriere della Sera, in primo piano, Conte all'Europa, la stabilità sociale vale più dei bilanci, il Premier e il suo colloquio con Moscovici, pensione e reddito, spese giù per 3,5 miliardi. Un operario fa causa alla vita di Di Maio, la lite in famiglia, le Iene dicono Luigi lavorò, si chiedono se Luigi lavorò in nero e poi Mosca processa i marinai di Kiev in diretta TV e chiude alla Unione Europea. Attenzione tra, appunto, Ucraina e Russia no alla medizione di Berlino e Parigi. Nella fotonotizia i marinai ucraini scortati dagli uomini dei servizi russi all'udienza in tribunale dopo l'arresto. Andiamo a vedere la prima pagina anche di Repubblica. Sicurezza, il sì, incassa la fiducia, i sindaci dicono fabbrica di irregolari. Questa è la prima pagina di Repubblica nazionale. Vince Salvini, rientra il dissenso dei 5 Stelle, basta protezione umanitaria, stretta sull'accoglienza. Questa è la prima pagina di Repubblica che in fotonotizia riporta la storia che arriva dalla Cina, Mr. Ali Baba e i 100 uomini che hanno fatto grande la Cina. Ci sono i più importanti uomini della storia recente cinese, da partire da Yao Ming, il primo cinese a sfondare l'NBA, poi Jing Yei Peng che con la bandiera rosso comunista sul casco, un astronauta, ha fatto ben tre voli spaziali e poi tanti altri ad arrivare fino a 100 pubblicati sul quotidiano del popolo. C'è tantissimo del partito comunista come riporta questo articolo in prima pagina su Repubblica nazionale. Andiamo a vedere anche la prima pagina della stampa, l'Unione Europea avverte il governo, la correzione sui conti deve essere consistente. Intervista a Dobromskis, dialoghiamo con Conte per trovare un accordo. l'allarme crescita da export e fiducia, il ministro tedesco Scholz a Roma per rimediare. Fotonotista dedicata al calcio, la Juve batte il Valencia 1-0, Ronaldo Scho Manzugic gol, la Juve vola agli ottavi di Champions League e anche la Roma vola agli ottavi di Champions League nonostante la sconfitta casalinga contro il Real Madrid per 2-0. La prima pagina di avvenire, tassa senza memoria, prelievo sui soldi mandati a casa dagli immigrati, le stesse rimesse che aiutarono l'Italia a crescere. Oggi sì del Senato al decreto fiscale, giallo sulle donazioni al non-profit e alla Camera approvato il provvedimento sulla sicurezza che limita l'asilo. Fotonotista dedicata alla politica internazionale, Macron tenta la svolta per un'ecologia popolare, aiuti alle famiglie e tagli di accise alla vigilia di COP24. Questa è la prima pagina di avvenire. Andiamo adesso sul quotidiano sportivo, tutto quello che riguarda anche lo sport, in primo piano la coppia dei sogni, Ronaldo manda in gol Mandzukic, la Juve vince 1-0 contro il Valencia, vola gli ottavi di finale di Champions League con la Roma che perde 2-0 con il Real, perde il primo posto però si qualifica per gli ottavi di Champions. il Bologna un altro guaio dopo l'altro, si ferma anche Blairim Zemaili e poi per quello che riguarda la fortitudo insegue il record di vittorie, a Piacenza però farà meno di Esbruck, è infortunato, lesione muscolare lieve però dovrà rimanere a riposo. CR7-Manzukic tandem per gli ottavi è il primo piano di pagina 2 del quotidiano sportivo per quello che riguarda la finale della Libertadores si giocherà l'8 il 9 dicembre ma all'estero ancora caos queste sono le pro le prime sensazioni però il Boca dice di no è contrario a questa idea. Cuore Belecaut è la solita Roma l'elezione Real ma arriva il pass per gli ottavi vince 2-0 con i gol di Gareth Bale e di Lucas Vasquez il Real Madrid che vince 2-0 all'Olimpico stasera scendono in campo l'Inter contro il Tottenham basta un punto per passare il turno e il Napoli che ha sfronta la stella rossa Ancelotti ieri in conferenza stampa ha detto se non vinciamo siamo dei chip puntini 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 il Bologna 7 appelli in un mese Bologna si decide tutto servono punti per evitare peggiori rischi le prossime gare vedranno la trasferta di Genova contro la Samp e poi contro il Crotone la settimana prossima nella giornata di mercoledì alle ore 18 in Coppa Italia il 9 dicembre Empoli-Bologna e poi a seguire Bologna-Milan Parma-Bologna Bologna-Lazio e Napoli-Bologna 4 partite nel giro di 20 giorni un tour de force importante per il Bologna che cerca risposte le risposte positive le sta dando Lukasz Skorupski il portiere polacco dedicato a lui il box di pagina 6 e poi per quello che riguarda il livello dirigenziale Fenucci-Inzaghi un patto per la Serie A l'amministratore delegato ha scelto l'allenatore che vuole ripagare la sua fiducia risollevando le sorti dei Rosso-Blu piove sul bagnato per quello che riguarda Inzaghi ha subito un colpo al ginocchio i tempi di recupero sono da definire e per quello che riguarda il mercato Kovnacki apre la porta se non gioco vado via queste le parole dell'attaccante polacco della Sampdoria Fortitudo caccia il record Esbruck non ce la fa all'esterno resta riposo in via precauzionale si vuole raggiungere il record di 11 successi di fila domenica la F sarà a Piacenza per continuare questa striscia coach Martino preferisce non rischiare appunto Kenny Esbruck dopo l'infortunio occorso contro Ravenna si parla di volley di serie C e poi chiudiamo la parte dedicata allo sport con la Formula 1 Schumi Junior e Leclerc sterzata da grandi Mick subito promosso in Formula 2 il figlio di Mick è il Schumacher e Charles Leclerc da oggi al volante della Ferrari talento monegasco fa già la storia adesso però correndo per la Ferrari avrà su di lui gli occhi di tutto il mondo è il momento di un piccolo break pubblicitario a rientro continuiamo la rassegna stampa ai quotidiani di Bologna ai quotidiani nazionali e tutto quello che riguarda lo sport che attra poco attra poco attra poco e tutto i miei occhi di Pologna